Non sono più l'Alessandro e l'Orlando dei video che si sono su YouTube di milioni di cash, poi dopo la rifaremo quella parte, per favore. Spero di no, anche perché tuttora mi fermano per dire ma c'hai mica due milioni in tasca? Trent'anni di televendita, è rimasto in mente quello. C'è questo mito del sultano, il sultano non esiste. Gurulandia! Dove l'ha fatta preso questo? Non me ne frega niente. Gurulandia! Ascolta Gurulandia, mi hai capito bene? Signore e signori, oggi un incredibile ospite è arrivato a Gurulandia, diamo il benvenuto a Alessandro Orlando. Grazie Alessandro. Un saluto a tutti voi, grazie per l'invito. Grazie a te di essere qui. Tra l'altro a grande richiesta, non hai idea di quanta gente mi ha scritto, portatemi Alessandro Orlando, stai amatissimo, anche dai giovanissimi. Grazie. Oggi abbiamo fatto tipo un pool sui social per capire se indovinavano, in cinque minuti o di duecento persone già avevano capito. Allora, poi c'è un pubblico ampissimo, sia di giovani, persone più grandi. Sì, questo me ne sono accorto, perché anche quando giro per strada ragazzini che salutano, adulti, insomma, di tutta l'età. Di tutta l'età. È vero? Allora, senti, noi, Gurulandia, non so se lo segui, si chiama così perché portiamo un po' il guru di ogni settore, no? E sei un po' il guru dell'arte, della televendita, dei tappeti, dei quadri, di tante cose. Però la prima domanda che facciamo sempre a ogni ospite che viene qui è chi è, in questo caso, Alessandro Orlando? Come ti definiresti? Chi sei? Raccontaci un po' di quella che è la tua storia, di come sei arrivato a essere quello che sei oggi. Dunque, io fin da piccolino, quando ero molto piccolo e a scuola mi chiedevano che lavoro fatto a padre, dicevo il gallerista, e tutti pensavano che lavorasse, facesse i tunnel, va bene? Per questo era l'idea. Poi è chiaro che nascere con una famiglia di grandi mercanti d'arte, come mio padre, come tuttora mia sorella, che crescere con questo ambiente mi ha fatto amare questo ambiente e amare meno quello che invece era il lavoro di mia madre. Mia madre aveva un'azienda di tessuti, delle cose bellissime. In casa sono cresciuto con tessuti splendidi, mia madre disegnava un'azienda importante a Firenze, e mio padre invece è grande mercante d'arte moderna e contemporanea. Questa è stata la mia crescita. Quando mi chiedono che cosa fai nella vita, mi piace dire commentatore d'arte, perché è vero che vendo tanto, i numeri parlano chiaro, insomma, però lo faccio con uno spirito e con qualcosa che ho dentro di me. Non saprei, non ho studiato recitazione, non ho studiato teatro, non ho studiato edizione. Sono così, cioè sono nato così. Quindi la tua arte nel vendere è proprio una dote innata in questo caso. Allora, amo molto il teatro, lo amo tantissimo, lo vado a vedere quando posso, adesso un po' meno. Comunque ho sempre amato molto, grazie all'educazione che mi hanno dato i miei genitori, quella di andare a teatro, di andare a vedere spettacoli e cose, ma ripeto, è successo tutto per caso quello di riuscire a bucare il video, come si dice, perché a 24 anni, mi ricordo è stata la prima trasmissione che ho fatto, è stata quella in una piccola televisione che si vedeva solo in Versilia, c'è tutt'ora, si chiama Teleriviera, una piccola televisione, salutiamo perché mi ha battezzato questa televisione, e avevo 24 anni, mi ricordo, e credevo all'epoca, non so se è aumentato il segnale, si vedeva da Massa a Viareggio, una cosa del genere, e mi feci la mia prima trasmissione, accanto a me c'era mio padre seduto, e adesso vai in onda, è presente, va bene, ho cominciato a presentare e andò molto bene, ma questo era un esempio, non avevo mai pensato che poi sarei andato in nazionale con telemark, dopo ho fatto 20 anni di, e altre esperienze, è successo tutto per caso, c'è da dire la cosa che mi ha aiutato, le aste dal vivo, vengo dalle aste dal vivo, prima di fare televisione, molto giovane, facevo le aste dal vivo, e quindi con 300 persone in sala, e quello è ancora più difficile, perché la televisione è una macchina, e quindi uno può fare quello che gli pare, e alla fine non è che c'è gente che ti uccide, il pubblico dal vivo è molto più difficile, perché se dici una cosa sbagliata, insomma, è chiaro che io vengo da lì, e quindi quando facevo televisione, e quando faccio televisione, perché la faccio tutti i giorni, anche tutte le sere, è chiaro che è una cosa che adesso mi viene proprio spontanea, so che sono tanti, mi hanno detto che il mio editore, quello che mi manda in onda, dice che sono circa 50.000 persone ogni sera, che guardano, è uno stadio, è come un concerto ogni sera, stanotte alle 4 sul canale YouTube, 400 persone, ho ancora i brividi addosso a pensarci, a pensare così tanta gente, è vero che il canale è nazionale, ma se consideri che sono 36 anni, che ogni sera fino a luna di notte, io sono in diretta, sono in casa della gente, ecco perché c'è gente che è cresciuta con me, hanno, mentre mi diceva, molta gente diceva, guarda io mentre facevo la laurea, studiavo per laurearmi, però c'eri te, col televisore, ti ascoltavo e sentivo queste cose, è una cosa emozionante. E senti Alessandro, ma quando hai fatto la tua prima televendita, già avevi questo timbro, questa dizione, questa comunicazione, perché ti ha detto non ho mai studiato, non ho mai imparato tutte queste cose, cioè te quando hai fatto la tua prima televendita, eri già così bravo a vendere, a comunicare? Allora io ho avuto forse la fortuna di nascere a Firenze, già chi nasce a Firenze ha una dizione comprensibile un po' in tutta Italia, e già questo, poi mia madre era milanese, proprio di quelle doc, proprio di quelle, una donna molto severa, di una famiglia storica milanese, papà invece era aggrigentino e si sono conosciuti a Firenze, per amore si sono fidanzati, io sono nato a Firenze per sbaglio, perché alla fine i miei genitori sono, io sono un po' il fulcrono di queste due culture, e mi hanno dato una grande educazione tutti e due, sia del sud che del nord. E sicuramente il segreto per vendere tanto è piacere a più persone possibile. Quindi se tu sei una persona apolitica, che non è vero, che non sono apolitico, però è chiaro che non vado in onda, oppure che non hai un'inflessione dialettale riconoscibile, piace a più persone, è chiaro. Ma posso dire, guarda, io ho avuto, noi qua abbiamo avuto tantissimi ospiti, pochissime volte, veramente raramente, ho avuto una persona accanto con questo carisma. No, davvero, probabilmente anche dato da questo timbro di voce, che è veramente... No, la tua voce è spettacolare, è una roba assoluta. Aiuta tantissimo, sicuramente, e ovviamente penso che poi aiuti anche nella vendita stessa. Ma fin da piccolino ho questa vocione grossa, cose non aveva mio padre e tantomeno mia madre, per cui è una cosa che ho da sempre, e molta gente mi riconosce più dalla voce, anche perché sono invecchiato, ingrassato, insomma è chiaro che non sono più l'Alessandro e l'Orlando dei video che vanno, si sono su YouTube di milioni, Due milioni mi devi dare. Poi dopo la rifaremo, quella parte, per favore, spero di no, anche perché tuttora mi fermano per dire ma c'hai mica due milioni in tasca? Trent'anni di televendita, è rimasto in mente quello. Ho notato come se tu volessi dissociarti dal meme che ti è stato attribuito. Non è così, non rinnego niente di quello che ho fatto, ma vorrei ribadire il fatto che quello che ho fatto non l'ho preparato prima, cioè molta gente, quando andavo in onda tutte le sere, arrivavo al lavoro tuttora, quando vado in trasmissione, arrivo tre secondi prima della diretta, non è che mi preparo la trasmissione il giorno prima, e questo mi ha aiutato molto a fare tutti i giorni, a volte dove lavoravo prima in telemarket, ad esempio, spesso presentavo sempre le stesse cose, quindi è chiaro che o diventavo matto, ogni giorno mi inventavo qualcosa di nuovo per farmi piacere quello che presentavo e quindi poter vendere tutti i giorni, che era sempre l'ultimo giorno, l'ultimo giorno, l'urgenzia, no è vero, il giorno dopo c'è la stessa cosa, è chiaro, è costruito un brand, esatto, e quindi questo era il modo per cercare di non annoiarmi io per primo, e questo funzionava, perché effettivamente, cosa posso dire oggi, ma è una cosa istintiva, non è che me la preparavo un giorno prima, anche che era impossibile, perché ogni giorno c'era la diretta. Ma fate lo sai cosa, secondo me era veramente bello, è veramente bello, da vedere durante le tele, ma sì neanche, lo storytelling che mette dietro, cioè quando vendevi un tappeto, non era un semplice, cioè ci raccontavi la storia, quindi era inventata quella storia, io ci credevo. Dipende, dipende quale, c'è questo mito del sultano, esatto, ok, cioè è favoloso, il sultano non esiste, sfatiamo questo mito, però c'è sempre il principe azzurro, che arriva, insomma fa un po' di, viene creata questa figura, per far attaccare le persone a casa qualcosa, qualcosa, sì ci vuole, insomma per condire un po', del resto, io ho sempre venduto cose meravigliose, ma anche inutili, se vuoi, quindi seppure la bellezza per me non è inutile, però ritengo che, insomma devi far capire la gente che spende, e che convince ad alzarsi dal divano, al tempo che non c'erano i telefonini, prendere il telefono, chiamare, spendere 2 milioni, 3 milioni, 10 milioni di lire, è una cosa che è difficile da fare. Esatto, ma proprio a tal proposito, cioè qual è il, come hai fatto a instaurare una relazione così grossa di fiducia, nei confronti dei clienti? Quali quali c'è? Allora, non è così, non è così, c'è stato un periodo in cui, io facevo, trasmissioni da, ricordo ancora, un miliardo a trasmissione, o 250 milioni a trasmissione, avveniva spesso durante la settimana, e sono sempre stato il venditore, quello che vendeva di più, i numeri parlavano chiaro, io e un altro personaggio, che era molto bravo a vendere, affabulatore, anche lui con una voce importante, Roberto, Roberto da Crema? No, ti prego, non accomunarmi a lui, no, Roberto da Crema, è un venditore di cose da poco, io vendevo opere d'arte, un'altra cosa, insieme con me, un mio collega, dove lavoravamo insieme, comunque ero quello più pagato di tutti all'epoca, perché vendevo più di tutti, ma l'azienda fece una sorta di marketing, con i clienti, dicendo, qual è, eravamo nove presentatori, qual è il vostro presentatore più amato? Io ero quello più odiato, certo, perché ero quello più odiato? Perché ero quello che vendeva di più, e c'era, ora non so come dirlo, come dire, quello più amato era quello che vendeva di meno, perché era quello che ti restavi incantato a vederlo, perché era divertente, era più uno showman che un venditore, io invece ero un venditore, e quindi cosa accadeva? Accadeva che io vendevo tanto, e il pubblico diceva, che miseria, lo so che Orlando, tra virgolette, mi frega, però mi piace farmi fregare da Orlando, cioè, questo era, allora, se io riuscivo, mi spiego il senso, Orlando è riuscito, non ho mai venduto cose dubbie, però, è riuscito a farmi comprare quella cosa, io magari avrei fatto anche a meno di comprarla, vedi che il marito che litiga con la moglie, no, ma perché, però Orlando, però mi piace, mi piace Orlando, e io voglio comprare da Orlando, mi piace, ma ti posso assicurare che succede anche ora, ci sono degli innamoramenti di Orlando, tutt'oggi, anche la settimana scorsa, c'è da gente che mi scopre in televisione, e compra finché non ha più soldi, cioè, continua a comprare, vendo cose costose, continua a comprare tantissimo, e poi il gioco dice, no Orlando, guarda, ok, mi devo fermare, perché, cioè, c'è proprio un innamoramento, una, e non è una cosa, faccio con la magia, cioè, sono io, la telecamera, è l'ottavo vizio capitale, e basta, per cui, questo accade, e accadeva anche all'epoca, però questo era il segreto, riuscire a vendere, diciamo, questo Orlando, questo toscano, questo, terribile, però, ero quello che vendeva di più, va bene, e questo è il segreto. Noi guarda, noi passavamo le serate sul divaro, a guardare, si può dire che la tua esplosione, comunque il tuo, insomma, l'Alessandro Orlando è venuto, è esploso, grazie a Telemarket, no? Certamente. Con la collaborazione con Telemarket. Certamente, perché Telemarket era il canale nazionale. Esatto. Com'è nata questa collaborazione con Telemarket? Allora, con Telemarket è nata, è cominciata così, una, uno dei più grandi venditori, che io tuttora, ammiro, non ho mai copiato, perché comunque, se copio un televenditore, o un venditore, è la tua fine, devi essere te stesso, perché la gente si accorge, guarda come assomiglia a quello, come assomiglia a quell'altro. Però c'era questo personaggio, c'era, c'è tuttora, spero, sia ancora vivente, perché è una persona, una persona meravigliosa, si chiamava Principe Bishan, che era veramente un Principe, spero lo fosse un Principe, non lo so, credo di sì, comunque, un personaggio magnifico, io ho adorato come non mai, ed era una delle punte di diamante, di Telemarket, prima che arrivassi io. Bene, lui mi vede fare un'asta dal vivo a Forte dei Marmi, in Versilia, e suggerisce alla proprietà di Telemarket, guarda, ho visto questo ragazzino, che mi piace come esce, come fa l'asta, fategli un provino. Mi fecero un provino a Brescia, e il provino è durato tre secondi, preso, sì, ci piace, però ha sentito il timbro vocale, lo so, mi presero subito, mi mandarono a Bari, perché a Bari, perché Telemarket all'epoca, non riusciva a trasmettere in nazionale, ma arrivava con segnale, non c'era, è digitale ovviamente, da, faceva tutto il nord fino a Roma, e da Roma fino a tutto il sud, lo faceva a Bari, una sorta di Telemarket 2, bene, quindi ho mai stato a Bari in vita mia, dico a mio padre, papà era ancora vivo, mi hanno preso a Telemarket, no, ma che fai, ma sei matto, ma non ho, anche papà aveva tre gallerie aperte, l'astre, c'è che fai, mi abbandoni, vai a fare, no, vado una settimana, vedo se mi piace, così, vent'anni, sostanzi, ma vent'anni, anche perché mi pagavano tantissimo, in proporzione, come si svolge il pagamento, in base a quanto il venditore vende? Si chiama gettone, io all'epoca prendevo, quando sono arrivato a Bari, 150 mila lire a trasmissione, e sono arrivati a prendere, negli ultimi tempi a Telemarket, 2500 euro a trasmissione. Ah, quindi non il percentuale in base a quanto vendevi? magari, magari, e per il resto come funziona il discorso logistico, diciamo, quindi da dove arrivano i quadri che vendete? Allora, si stanno sempre lo stesso, Telemarket in grande, perché ovviamente è una grande azienda, con migliaia di quadri, migliaia di fornitori, per quanto mi riguarda la mia televisione, Orlando Arte, quella che è venuta tutte le sere, è una televisione dove io ho i miei fornitori, che mi portano i quadri, io li vendo in televisione, li propongo, poi glieli pago, insomma, tutta una cosa molto più meravigliosa, perché ogni sera ci sono grandi numeri, per cui, perché non mi posso lamentare, con Telemarket c'è stata questa, questo ovviamente è farmi conoscere all'Italia intera. C'è creato un'audience. Esatto, un'audience eccezionale, e un grande amore del pubblico, amore e odio, quello di cui parlavo prima, e allo stesso tempo, grande soddisfazione mia, del fatto che, la proprietà di Telemarket, all'epoca, non credeva in me, non ha mai creduto in me, nonostante vedesse i numeri, c'erano dei grossi numeri, ma credeva più in altri personaggi, tutt'oggi mi chiedo perché, però, questo mi dava ancora più soddisfazione, perché comunque era quello che faceva più numeri, però c'è Orlando, te, che è quel toscano, che fai, e invece era quello che, anche perché, era quello che vendeva quello che gli altri non riuscivano a vendere, allora lì sei il numero uno. Cioè, quando sono arrivato a Telemarket, c'era un magazzino pieno di migliaia di cose, e ho detto, mamma mia, cioè io poi amavo il multiplo, perché la televisione è il multiplo, cioè tu vai in onda, di fronte a migliaia di persone, o milioni, non lo so, all'epoca, e è chiaro, se tu presenti una cosa, dico, che ne hai cento uguali, lì diventi matto, che meraviglia, finché lo definisci tutte a cento, famosi servizi riposate, che qualcuno ricorderà. Ti è mai stato proposto di vendere qualcosa che non, al di fuori dei quadri, o dei tappeti, al di fuori dell'arte? Certamente sì. Ti è mai successo proprio di farlo? No, mai, l'ho sempre rifiutato, mi hanno chiesto di vendere scarpe, mi hanno chiesto di vendere altre cose, mi ho detto no, grazie insomma. Ricordi la tua prima vendita importante? La mia prima vendita importante economicamente? Economicamente, ma se vuoi anche la tua proprio prima vendita? Allora, televisivamente parlio da galleria, sono due cose diverse. La prima sicuramente sarà stata da galleria? Sì, non il primo, molto giovane, le vendite importanti le faceva papà, e mio padre vendeva quadri molto importanti, da centinaia e centinaia di milioni di vecchie lire, e io in televisione, il quadro più importante che ho venduto, o meglio è stato prenotato, è stato un dipinto di Picasso, piccolino, un 20-30, mi ricordo, a 800 milioni, parlo di interlova. Wow. Non la mia rete, ma dove lavoravo. Ma che sensazione è trattare certe opere d'arte? Comunque un Picasso si parla di, cioè, di sé, nell'elite, no? Cioè, come... Non dimenticare... C'è anche una certa responsabilità, immagino, nel vendere un quadro di questo tipo. Allora, non dimenticare che la televisione pesca nel mucchio, quindi tu hai a che fare con un pubblico meravigliosamente terciario, non sai chi hai davanti, hai di tutto di più, il 90% dei miei clienti sono tutti professionisti, dottori, avvocati, industriali, grossi imprenditori, Berlusconi in primis, perché... E poi ci arriviamo a Sibio. Perché lui, dice bene, tutti gli imprenditori sanno che investire in pittura antica è una scelta intelligente. Lui comprava solo antico, qualcosa di moderno, per dire, ma non solo lui, ho citato lui perché, che è considerato uno dei più grandi imprenditori italiani. Quanti quadri hai venduto a Berlusconi? Circa 3.000. Ah, e lui dove li metteva tutti questi quadri? c'è un botto di caldo. Ricordare che aveva tante case e tanti spazi, tra cui Villa Gernetto, che lui, questa villa l'aveva creata per fare l'università dei figli dei governanti. Questa villa voleva fare l'università per crescere i figli di re, di regine, insomma, per poterli crescere e farli diventare capi di Stato. Questo era il suo progetto di questa villa, dove poi ha ospitato Putin e ha fatto altre cose. E molti arredi di quella villa li ho fatti io. Visto che siamo entrati nella presa di Berlusconi, volevo sapere com'è stata la prima volta che lo hai sentito. Perché io ho letto di un aneddoto particolare, cioè dove lui chiama per fare un'offerta, ma voi non credete che era Berlusconi e gli dite, perché lui fa sono Berlusconi e gli rispondono io Napoleone, ciao. È tutto vero, anche perché chi poteva mai immaginare un uomo che, conosciamo tutti il suo valore, la sua persona, eccetera, e quello che ha fatto e quello che ha combinato, insomma tutto quanto, eccetera, che una sera, mi ricordo era undici e mezza, un quarto a mezzanotte, di solito verso quell'ora è presente il quadro più importante, avevo questa bottega del Van Dyck, di Anton Van Dyck, questo grosso fiammingo, era una madonna con bambino, e il quadro, io faccio una televisione che si chiama Bits, Bits acronimo di business, vuol dire una specie di asta, non è un'asta ma una specie di asta, e dove la gente può dire, io questo quadro lo voglio pagare totto, lo pago 10.000, 20.000 euro, e quindi la gente chiamava, e un signore ha offerto 35.000 euro, e io do il tempo per l'assegnazione, dopo un certo momento squirano i telefoni, io ho quattro centrinisti, uno risponde, sono Berlusconi, voglio offrire 40.000, il mio telefonista, il mio centrinista, disse, certo guardi, io sono Napoleone, per favore, vada di auto, e li ha chiuso così, richiama, chiaramente usciva il numero privato, perché nel caso di un'offerta importante, noi facciamo subito la controprova, se la telefonata è corretta o meno, o se è uno scherzo, sono tanti ragazzini, che a volte si divertono, che richiama lui sempre con numero privato, guardi, sono veramente Berlusconi, voglio quel quadro a 40.000 euro, al che fa il mio centrinista, mi fa un segnale, io ero in diretta, quindi non potevo parlare o loro, mi fa un segnale così, chiuditi l'audio, esci di scena, io esco di scena, e che succede? Fermo il tempo, mi chiudono l'audio, e questo ragazzo, si chiama Roberto, mi fa, Alessandro, guarda, è chiamato per due volte Berlusconi, dicendo che è Berlusconi, e dice che vuole questo quadro a 40.000 euro, Roberto, perché sei briaco, cioè, no, non esiste, al che io riprendo, la diretta, e dico, 35.000, faccio finta di non, di non avere, preso questa offerta di 40.000, richiama nuovamente Berlusconi, sempre col numero privato, e Roberto lo tratta malissimo, dice, senta, noi siamo qui a lavorare, la vuole smettere, se no do il numero alla polizia postale, e quindi richiude, al che gli attacca il telefono in faccia Berlusconi, al mio centenarinista, chiama un numero di cellulare, bene, guardi, sono la segretaria del dottor Berlusconi, vuole veramente offrire questo, ma scusi, lei chi è? Sono Marta Fascina, ed era la Fascina che chiamava. Pensate. Quindi, all'epoca Fascina era la sua, era la, quella che faceva i comunicati stampa, insomma delle cose, almeno questo sapevo. Quindi, noi facciamo la riprova della telefonata, risponde lei, al che passo l'offerta di 40 mila, lui contentissimo, finalmente, non lo so, e un altro cliente fa 45 mila, al che lui richiama e fa 60 mila, bene? Chiude. E chiude così, chiaramente non entra più nessuno in gara, e assegno il quadro, bene, chiaramente, poi finisce la trasmissione, presenta altre cose, ci troviamo tutti, io e i miei ragazzi, l'assistente di studio, tutti noi diciamo, siete che faccio, ma era lui davvero? E ha detto, guardi, allora, fai una cosa, dott. Roberto richiama questa signora, all'epoca nessuno sapeva chi fosse la Fascina, è successo 2021, 2021, sì, e poi dopo il Covid, quando è stato il Covid, lui l'hanno mandato in Costa Azzurra, non mi vedeva più, e quindi non ha più comprato. ma la cosa bestiale richiama la Fascina, gli dice, senta, allora quando vuole vedere il quadro, il signor Silvio Berlusconi, io sembrava, sarà una, poteva essere uno scherzo, vai a sapere chi, e fanno guardia, allora vengo a lunedì alle 14, ad Arcore. immagino che sei andato di persona, ovviamente, ovviamente, quando ti ricambi. Già sentire Arcore, sembrava, non so, una cosa, una barzelletta, ho detto, ma siccome anche all'epoca ero piuttosto conosciuto, per vedere qualcuno mi sta facendo uno scherzo, al che prendo questo quadro, lunedì, con un mio, uno dei miei ragazzi, che andava anche in onda all'epoca, con lui, andiamo, partiamo io e lui in macchina, con questo quadro, e andiamo verso Arcore, sapete che davanti alla villa di Arcore, c'è polizia, carabinieri, un po' di cose, che arriviamo e ho detto, sicuramente adesso gli dico, che cosa fa lei, che cosa è venuta a fare qui, diceva, tirò giù il finestrino, dice lei che cosa vuole, sono Orlando, Galleria Orlando, Pietrasanta, dovrebbe aspettarmi il dottor Berlusconi, e fa un attimo solo, che chiede, e lì ho capito una grande cosa, la vera ricchezza, e lì l'ho capito, non è nel cancello automatico, che si apre, ma in quelli che te lo aprono, è una cosa che non ci avevo fatto caso, nonostante vengo da una buona famiglia, però la vera ricchezza è quella, non quello, no, ci sono le persone che ti aprono, non c'è, non è automatizzato, quindi, mi dice Gabriele, prego si accomodi pure, ho detto, è uno scherzo, è uno scherzo, ora mi fanno un acquato, non può essere, aprono questo cancello, due persone, questo cancello gigantesco, entriamo nel viale, davanti appunto a quello che è, l'ingresso di Arcore, con queste belle vetrate, arriva il Maggiordomo, il Maggiordomo, la prima cosa che mi dice, lei è in ritardo, è già messato sulle palle, stia calmo, già un po' nervosetto, diciamo, perché per me era uno scherzo, a mille, si accomodi pure, allora mi porto in un salottino, poi, sempre col quadro in mano, poi, in un altro salottino, e a un certo punto, apre le porte lui, dello splendore incredibile, con i cani che lo seguivano, mi ha detto, tu sei il più grande venditore d'Italia, e ho l'onore di averti nella mia casa, a me, e io dico, dottor, sai che non sai mai come dire, presidente, grande, cavaliere, eccetera, no, chiamami Silvio, è già lì, difficile chiamare Silvio, molto difficile, no, chiamami Silvio, io veramente sono, ti guardo non sai da quanto tempo, mi ha detto, io voglio che lavori in una delle mie reti, voglio che tu faccia, mi piaceva molto la missione, questa specie di aste, voglio che tu faccia televisione nelle mie reti, perché, sei una persona, insomma, un sacco di complimenti, alla fine mi dice, dai, fammi vedere questo quadro, faccio vedere il quadro, sì, sì, lo compro, bene, da quel giorno, poi, niente, meraviglioso, mi ha regalato libri, mi ha regalato tutti i suoi, chiaramente, le sue monografie, cravate, che ha posta fatte per lui, poi, un sacco di complimenti, mi ha accompagnato fino alla porta, dicendo, ci vedremo presto, da quella sera, tutte le sere, io per quasi due anni, presentavo, non so, a pareti di solito metto 30 quadri, molto spesso lui chiamava, dicendo, voglio tutta la parete, assurdo, il mio pubblico diceva, che succede? c'è come tutta la parete, allora, per fortuna, ho tanti quadri, anche poi c'è un attimo, fermo di immagine, staccavamo tutti i quadri, erano tutti suoi, ne mettevamo altri 30, chiamava lui, voglio anche questo, credibile, sì, accadeva, tutte le sere, va bene, tutte le sere, anche, è chiaro, che in quelle occasioni, cosa fai, ti dai da fare, cominci a comprare, quello di, infatti, ho comprato molto per lui, perché ho capito poi, allo stesso tempo, tutti i miei clienti storici, dicevano, Orlando, questo non potevo dire, che c'era, e non avevo voglia di dirlo, che c'era Berlusconi che comprava, anche quando facevo l'asta, questa specie di asta, che è il Biz, dove la gente, gli dico, parto da mille, e la gente gareggiava, chiamava lui dicendo, ormai Roberto lo conosceva, il responsabile del centralino, cioè, questo è mio, quindi qualunque, tu potevi offrire quello che volevi, era suo, quindi la gente, non riusciva a comprare più niente, e che tipo di quadri, gli piaceva Berlusconi? Una cosa, scusami, perché sennò me l'ascorto, perché volevo sapere, il primo quadro, l'editore venduto a 60.000, Sì. Una mia curiosità, ma di quei 60.000, qual è il margine di un quadro, se si può sapere? No. Non si può sapere. Non si può sapere. Ci ho provato ragazzi, ci ho provato, scusate, scusate. No, anche perché, è una cosa complicata, cioè, sono delle, è una specie di aste, in cui la gente mette delle riserve, per cui dicevo, io di questo voglio tanto, quello che è il più è tuo, oppure a percentuali, dipende. Ok, ok, ok. Che tipo di quadri piaceva a Berlusconi? Allora, comprava innanzitutto maggior parte quadri di alta epoca, cioè, quindi, dal 500, del 1600, qualcosa del 700, ma amava molto l'alta epoca, e lo comprava con intelligenza, quindi non è vero, ripeto, questo comprava perché c'era tanti soldi, non è così. Una grande intelligenza, e fai conto che da me, ripeto, ogni settimana arrivavo con camion, con tutto quello che aveva prenotato da me, voleva vedere tutti i quadri, quindi c'erano tutti i quadri stesi, aperti, dicevo, questo sì, questo sì, questo sì, questo non lo so, ci ripensava, questo no, questo sì, insomma, poi comprava 75, 80% di quello che gli portavo, ma anche il 90%, perché già quando sceglieva, lo faceva con intelligenza. Altra cosa che vorrei che mi chiedeste, perché è una cosa affascinante, i conti, come faceva i conti con me? Cioè, considerate, quando gli portavo, un conteggio di 250 quadri, o 300 quadri, noi, ovviamente in azienda da me, tutto computerizzato, c'è un software importante, che c'è tutta la lista, un costo, un fornitore, eccetera, lui, tutto a mano, faceva i conti di centinaia, di migliaia di euro, tutto a mano, con un chirurgo, foglio e penna, c'era il mio fascicolo, Alessandro, mi chiamava Alessandro, e scriveva, questo, più questo, più questo, faceva il conto, a mente, e io invece lo facevo al telefonino, ma no, perché non mi fidavo, se volevo capire, anch'io, invece lui, tutto preciso, e faceva la cifra giusta, e poi, dava ordine, di fare il bonifico, di questo, fate questo, Orlando, e mi facevano il bonifico, così andavo, uomo d'altri tempi, e senti Alessandro, cambiamo un attimo argomento, per valutare un quadro, quindi per dare un valore a un quadro, è più importante la storia che c'è dietro, o anche dell'artista, oppure è più importante la bellezza del quadro in sé? Sì, bravo, esatto, come si stima un quadro? Oh, che domandona, allora, intanto, c'è da capire che, se chi compra, vuole la firma, o semplicemente, dice, io compro quello che mi piace, non importa quanto costa, sono due cose diverse, quindi è chiaro che, stimare un quadro, la stima, nel caso dell'arte moderna e contemporanea, la fa il mercato, il mercato, vuol dire le aste, soprattutto quelle internazionali, che dettano legge, su quell'artista che oggi è stato battuto a toto, vuol dire che quell'artista vale così, poi, è chiaro che non basta una giudicazione, ma ci vuole più di una giudicazione, perché si capisca, che mercato ha quell'artista, poi, nel caso dell'arte antica, è tutto in mano a professori, a esperti, ce ne sono tantissimi, anche troppi, che comunque dicono, questo quadro è scuola, bottega, cerchi, attribuito, che dicono a loro, su quello che è l'importanza del quadro, poi, lo stato di conservazione, parliamo di quadri che hanno 400, 500 anni, e tutto questo, ovviamente, fa sì che il quadro acquisti valore, a seconda dell'attribuzione, parlo dell'antico, del moderno, poi ci sono, adesso c'è il grande business degli archivi, che voi non sapete cosa sono, però sono meglio, comunque, sono un grande business degli archivi, che sono nati, cioè gli archivi sono nati per tutelare gli artisti scomparsi, quindi gli artisti scomparsi, o chi può dire se il quadro è buono o no, è un grosso problema, sono nati degli esperti, cioè quelli che dicono, secondo me, siccome io prendevo sempre il caffè con quel pittore, io lavavo i calzini a quel pittore, io posso dire che quel quadro è buono, devo dire, e quindi lascio commentare a voi, però questo è, e costano tantissimo, cioè tu vuoi sapere un quadro in casa, vuoi sapere se è buono, l'artista è scomparso, cosa fa e ti rivolge all'archivio, o non tutti gli archivi sono così, però molti, prima mi dico, beh, vi faccio subito un bonifico di 500 euro, così, e poi, certo, e poi le dico se il quadro è buono, tanto 500 euro sono preso, così funziona, questa è una cosa recente, negli ultimi dieci anni, però ecco, il mercato lo decide il pubblico, è il pubblico, quanto, ad esempio fra tutti, c'è una mostra importante, a Palazzo Reale a Milano, o a Peggy Guggenheim a Venezia, di un artista, è chiaro che quella mostra istituzionale, fa crescere il valore di quell'artista, perché è un evento istituzionale. E ci sono artisti contemporanei in Italia, che vendono quadri ad alto prezzo, al giorno d'oggi, come? Senza motivo? Che costano tanto, e ci si chiedono perché. Quali sono i migliori artisti in Italia, al giorno d'oggi, che producono quadri, insomma, che disegnano quadri, ora non so qual è il termine. Se ti sentono dire producono, ti uccidono. No, no, infatti non sapevo qual era il termine. No, no, dunque, allora, il discorso, quello che va moltissimo oggi in Italia, è la pop art, quindi, Schifano, Feste e Angeli, sono i tre di Piazza del Popolo, quella va tantissimo, c'è un grande investimento su di loro e la gente continua ad acquistarli a prezzi importanti e crescono perché anche il mercato estero è interessato a loro. Ci sono le correnti artisti, ecco, diciamo, che vanno moltissimo, fare dei nomi, che ne ho appena fatti, questi della pop art, vanno molto forti tuttora. Poi, ci sono molti galleristi che aiutano degli artisti, quindi li aiutano, cosa vuol dire? Li fanno fare mostre, sono galleristi onesti e anche quelli disonesti, ovviamente c'è quelli che prendono un ragazzino che butta del colore, hanno molti soldi e gli fanno fare mostre in giro ma non sono nessuno e ho anche, soprattutto in televisione, la televisione aiuta molto, i media sono, lo conosco bene, il mezzo, creare un Michelangelo in televisione è facile perché quando tu prendi uno che sa disegnare questo diventerà il Picasso lo pompi per bene, esatto, gli fai fare qualche mostra a New York, adesso affittano anche le sale di qualunque museo le affittano a mille dollari al giorno per cui gli fai fare una mostra in quale dico, questo artista è l'artista che dovete comprare, quindi pubblicità sui giornali, eccetera, allora io dico sempre ai miei clienti che dicono Alessandro come faccio a tutelarmi? Io dico sempre puntate sulla storia, non dico sui dipinti antichi ma puntate su artisti storicizzati cioè che sono presenti sui libri di storia non quelli emergenti emergenti ma ci sono anche quelli bravi giovani sono artisti giovani bravi ma che da soli non ce la possono fare devono affidarsi a dei galleristi perché il mestiere del gallerista è quello poi ripeto ci sono anche galleristi la fascia di età di questi artisti qua no? Quali dici? degli artisti che abbiamo oggi cioè io vedo che anche nelle trasmissioni e tutto quanto il mercato è sempre il mercato di un oggetto realizzato anni e anni fa cioè oggi ad esempio vengono realizzati da giovani magari anche della nostra età dei quadri che possono avere un buon valore cioè com'è? Prima si sfornavano molti più quadri oggi vedo che sta morendo questa cosa oggi sono le NFT ho storto la commento scherzavo era una battuta no 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 infatti io non potevole cadere che ne pensavi volentieri ti rispondo anche al discorso dell'intelligenza artificiale che sta contaminando anche l'arte e la musica insomma anche per cui ma la cosa non mi preoccupa mi spiace per chi perderà molti posti di lavoro questo sì perché li perderanno in tanti però sicuramente il collezionismo va avanti e il pubblico spaventato come lo sono io da queste tecnologie nuove vorrà sempre di più la pittura vera lavora sempre di più l'artista vero e quindi va bene così però ma una cosa per la volta non mi ricordo quello che dovevi parlare no dicevo se oggi sono artisti emergenti che dipingono che magari hanno 25 anni cioè invece di creare da soli non ce la possono fare hanno bisogno di un gallerista di una persona che creda in loro come tutti nella vita se facciamo qualcosa se hai qualcuno che crede in te lo fai meglio ma un artista deve avere un gallerista una persona dice bene mi piacciono le tue cose te le espongo in televisione io ricevo spesso richieste da tanti artisti Alessandro anche perché sono molto seguito per cui è chiaro che mi chiedono mi presenti in televisione qual è il problema della televisione i costi televisione ha dei costi pazzeschi io devo per forza di cose trattare artisti nazionali non posso presentare artisti giovani se lo faccio è un problema perché ovviamente devo arrivo a un pubblico nazionale cioè il mio pubblico vuole firme vuole quadri importanti e la televisione ha dei costi importanti e se io facessi giovani diventa un problema proprio per i costi che ha la televisione certo non basta avere una rete in tv allora si può chiedere no nessun problema tu considera che un canale nazionale come quello che ho io io sono sul 124 digitale terrestre ma tutta la fascia dei canali io faccio 4 ore al giorno penso siamo sui 1000 euro al giorno solo di canale quindi poi un momento 1000 euro solo il canale devi pensare al tecnico l'assistente di studio il magazziniere il presentatore in questo caso è mia la rete quindi non mi pago ma è chiaro che c'è uno staff di persone i centralinisti giocano un ruolo fondamentale molto perché non è che al telefono io ti convinco a chiamare ma il centralista deve sapere rispondere non puoi non vendo scale o spazzole o phone o cose da 50 o 90 o 99 euro quindi è chiaro che devono essere i centralisti preparati a rispondere a un pubblico esigente giustamente perché spende e rispondere alle domande che fanno perché ovviamente io a volte magari ometto di dire delle cose loro chiedono più spiegazioni devono essere in grado quindi professionisti a rispondere alla telecamera assistenti di studio che sappiano mettere i quadri a parete che non li rompano soprattutto quindi già postare la disposizione è fondamentale la disposizione è fondamentale cioè c'è sicuramente uno studio dietro alla disposizione assolutamente sì e altro studio che è fondamentale per la vendita è come usciamo infatti noi abbiamo il monitor ovviamente in studio io guardo spesso il monitor questo non è carino quando sono in diretta ma perché è evidente che molto spesso è successo che è stato il cameraman a vendere il quadro non Orlando io magari ero in silenzio ma il cameraman è stato così bravo a riprendere quella scultura o quel quadro io ero in silenzio il cliente ha chiamato e l'ha comprato spesso e volentieri anche nelle vendite di telemarket anni fa si vedeva sempre che mentre parlavi guardavi in alto a destra era lui era il monitor tante persone si amesse lo chiedevano ma cosa guarda era brutto molto spesso anche il direttore di trasmissione diceva Orlando smetti di guardare il monitor no perché quello che vede la gente a casa è quello che poi passa realmente capito quindi devo stare molto attento molto a quello che usciva perché perché molto spesso soprattutto dove lavoravo i regista e cameraman erano in due fissi o tre quando erano iniziati con le cuffie la regia da una parte il regista e il cameraman da una parte mentre io andavo in onda e parlavo loro dicevo l'hai vista ieri sera la partita tutto bene e io dicevo guardate che meraviglia questa farfalla il cameraman era sulla margherita per dire invece parlavo della bene o altre volte una volta cioè io siccome sto molto attento a queste cose il cameraman molto spesso si annoiano perché non gli frega niente dell'arte o poi sono quelli anche che gli piace ma quelli non gli frega niente c'hanno Orlando davanti che parla di un quadro e lo esalta e dove vanno fai conto un quadro meraviglioso con dei fiori ho fatto questo esempio potrei portartene altri fiori cascate d'acqua eccetera siccome non sanno cosa fare con la telecamera vanno a stringere sul ragno schifoso che piccolino in basso a destra che non vedresti mai che sui televisori della gente diventa un ragno gigantesco e io dico che cazzo esco fuori di scena vedo il monitor con questo ragnone gigantesco scusa e dico perché mi piaceva vedere piccole cose che servono alla venta infatti io con tutte queste ore di diretta televisiva sono mai successi episodi simpatici degli inconvenienti una volta mi sembra che il cameraman o comunque il fonico non aveva spento il microfono e ti continuavi a parlare sì è successo di tutto ovviamente tutti ad esempio molti molti miei colleghi là quando eravamo in TAN dove lavoravo prima hanno l'abitudine tremenda di spengersi da soli che è la cosa che io non farò mai tuttora non la faccio mai faccio spendere sempre da regista perché è pericolosissimo perché non puoi mai capire se ti sei spento davvero oppure però anche nonostante questo dove lavoravo e c'era il regista che faceva questo segno e mi chiudeva è successo a volte che io andavo in bagno una volta andato in bagno e non mi aveva chiuso quindi mi lascio immaginare lo scroscio dell'acqua tutto anche la gente chiamava oh c'è Orlando in bagno c'è Orlando in bagno bellissimo una volta poi è successo più di una volta sai che appendevano i tappeti in alto c'è un sistema di chiodi messi così e il tappeto sta sopra mentre io presentavo ovviamente una volta un tappeto è caduto e mi ha travolto davanti a tutti e altre volte io ero famoso per far volare i tappeti signori guardate com'è leggero questo tappeto una volta c'era un tappeto talmente pesante prendo questo tappeto e lo faccio volare era talmente pesante mi sono piegato mi sono cascato un po' tipo Elon Musk con la tesla che spacca al vetro capita senti Alessandro quando almeno nella mia testa quando si parla di arte mi viene sempre in mente Vittorio Sgarbi ok perché lo conosci hai mai avuto sì ho avuto il piacere di lavorare con lui dove lavoravo a telemarca dove faceva una sorta di telegiornale dell'arte io fa conto finivo a luna di notte lui arrivava a luna e mezza anche di notte si cambiava sai che faceva duemila cose tuttora penso comunque all'epoca di più mi ricordo ci incontravamo nei corridoi l'ho sempre avuto una grande ammirazione per me mi ha sempre detto tu sei un grande venditore ma hai comprato niente? da me no da te da me nella mia rete no poi non lo so nel senso molta gente importante o VIP o cose non si rivelano mai a parte Berlusconi ho saputo poi che attori e cose mi hanno comprato da me ma non mai dicendo che erano loro ok ok però non credo lui lui ama molto la pittura antica e con il proprietario di telemarket aveva un rapporto di amicizia penso che avesse acquistato cose però ecco lui la cosa che mi ricordo è che fece delle trasmissioni anche in telemarket chiaramente con grande audience per cui lui è molto seguito e successe che un centralinista passò la conferma confermato un quadro e lui si arrabbiò moltissimo dicendo io non vendo niente in televisione capito come dire io sono un professore io sono un esperto un esperto non vendo niente rimproverò moltissimo il povero centralinista mi c'era contento di aver fatto tutto qua che poi mi immagino il rimprovero di Sgarbi è sempre quello che non è che le manda a dire in realtà non ha rimproverato il povero centralinista ma ha rimproverato il direttore di televisione dicendo cosa fai ma senti Orlando una bella persona volevo fare una domanda tu hai detto che appunto sei in televisione ormai da una trentina d'anni quindi abbiamo detto che abbracci un'audience immensa dai miei genitori dai nostri genitori dai giovani ok ma in tutto questo tempo come sono cambiate le tecniche di vendita ora magari tu hai detto che hai sempre avuto il tuo stile unico ineguagliabile ma nel tuo settore come è stato il cambiamento hai visto un cambiamento nel modo di vendere? purtroppo no nel senso che vedo ancora nei pochi momenti in cui riesco a vedere altri che fanno televisione non ho visto delle grandi novità io ho 60 anni adesso per cui credo che continuerò tutta la vita a fare quello che facevo però secondo me a volte vedo dei personaggi che ancora pensano che le persone siano tutte stupide e quindi hanno questo atteggiamento di arroganza nei confronti della gente vuol dire sei uno stupido se non compri questa non dico così ma insomma sento maleducazione sento arroganza e questo non va bene non mi piace pur di vendere la tecnica dell'attacco non va bene nemmeno quella di insomma di imbellettare una persona però ecco non vedo grandi cambiamenti nonostante i tempi cambiano e passano però non vedo niente di nuovo cioè se mi doveste chiedere io tutta la vita che cerco qualcuno che mi aiuti nella mia rete e se ti piace qualcuno che fa questo mestiere sì c'è un ragazzo che mi piace molto come lavora ho cercato di di averlo ma chi è? sì è pubblicità buona perché non è stato un gesto carino da parte mia perché non si porta via le persone a lavorare dove stanno lavorando ho fatto una proposta molto bravo lavora su un canale non mi ricordo il numero però l'ho visto lavorare si chiama Christian e ha detto questo mi piacerebbe che lavorasse con me l'ho chiamato in qualche modo sono riuscito ad avere il numero e gli ho detto sono Alessandro Orlando oh sono Alessandro Orlando no perché lui chiaramente mi conosceva secondo me sei molto bravo era emozionato solo il fatto che io l'avessi detto era molto bravo vorrei che tu lavorassi con me lui è stato molto corretto ho detto Alessandro lavoro per questa azienda ho un contratto e quindi non posso peccato cosa ne pensi invece di Vanna Marchi? Vanna Marchi ovviamente penso che sia una donna dal grande carisma mi hanno chiamato Netflix per fare per vendere la serie mi chiamarono per dire Orlando guardi vorremmo lei per fare lo spot per vendere questa serie su Netflix e io dissi accetto solo se prima vedo che cosa devo dire anche perché non volevo essere accomunato associato associato a lei poi dopo questo progetto poi dopo della pubblicità di questa cosa non è stato approvato dalla direzione generale e quindi non è andato in porto fecemmo una call con Milano eccetera questa cosa qua non è andato in porto e non ho fatto questa cosa la cosa che so di per certo è che lei ha una grande stima di me io amo molto la cucina francese e lei aveva una lei la figlia fidanzata con un grosso antiquario non so se sapete la figlia aveva questo ristorante importante a Milano che si chiama sto dicendo delle cose che non devo dire no no le conosciamo sì sì sono state qua lei e Stefano esatto mi ricordo ancora io amo molto la cucina francese l'unico ristorante francese a Milano era non so se c'è ancora la Malmaison gestita Davide e la Cerenza esatto non c'è più si è trasformata era la cintoneria eravamo ieri da Davide e la Cerenza esatto e andai a cena lì ma non sapevo che era che era di Stefania nobile e non lo sapevo perché amavo la cucina francese sono arrivato e mi hanno mangiato divinamente e a un certo punto vedo Stefania nobile lì e lei mi fa Orlando tu guarda stasera sei fortunato perché c'è anche la mamma fantastico speriamo che non ci siano fotografi perché insomma non mi va che va bene che anche televisione è un posto sicuro ok ho conosciuto tra l'altro la cosa eccezionale che dopo poi si presenta a Vanna Marchi io felicissimo complimenti comunque sia grande carisma ovviamente non condivido mille cose ma queste sono cose ovvie e la cosa che dire dopo un anno io ho aperto il mio ristorante all'epoca si chiamava Mamazon e loro mi hanno aiutato tantissimo soprattutto non so se il marito fidanzato di Stefania Davide Davide credo sì che ha una grande cultura e mi ha dato tutta una una playlist di canzoni francesi per il mio ristorante e me lo ricordo sì sì questo è il mio accadimento la cosa che so di per certo che quando la signora Vanna Marchi era in carcere chiamò la galleria Orlando i miei uffici perché voleva vendere i suoi quadri voleva che io vendessi i suoi quadri e li hai venduti? no ok non li ho venduti poi non so come è andata perché lei quando era in carcere dipingeva questo lo so capito però non ho mai visto i suoi quadri senti Alessandro sarebbe bellissimo se tu potessi farci una vendita in diretta di questa tazza è un oggetto d'arte è un oggetto d'arte la mettiamo poi nella sigla sarebbe bellissimo dici se uno è bravo a vendere lo può fare proprio ieri l'altro mi sono rifiutato mi hanno portato un quadro fatto da Adolf Hitler va bene è vero proprio è un quadro è un bozzetto di un quadro di Adolf Hitler che Vittorio Sgarbi ha usato nella nella mostra della follia che ha fatto lo importante c'era questo quadro di Adolf Hitler l'ho vista a Lucca c'è stata anche questa mostra qua e c'è un dipinto di Adolf Hitler me l'aspettavo museo d'Orsay a Parigi no girato girato bravi bravi visitate i musei bravi mi hanno offerto questo quadro guardi Orlando avrei questo quadro da vendere che è il bozzetto di questo quadro firmato da Hitler io ho detto no non la posso sentire proprio no no grazie insomma bisogna sapere anche dire di no però la tazza è di Gurulandia mi tocca non siamo criminali noi ma è d'oro chiaramente ovviamente ha un valore inestimabile è inestimabile attenzione che questa qui presentata proprio ora te la faccio firmare e la vende ce ne sono sono quattro in tutto il mondo quattro in tutto il mondo me la firmi? così la vendiamo ha più valore così capito è vero anche firmata da Alessandro Orlando quindi edizione limitata firmata wow wow bellissima eccola lì beh e dovrei venderla sì prova ma sono abitato a vendere in diretta sì sì se si facesse un numero di telefono allora il numero è 0572 non sono preparato ho venduto di tutto nella vita ma una tazza bellina bellina se ci può vendere il microfono beh il microfono dove ha parlato Alessandro Orlando mi sembra una cosa eh sì il microfono è fatto breccia scusa è uno strumento importante lo vendo? va sono emozionato io faccio sempre riferimento a Miller Miller diceva che l'arte non serve a niente se non a dare un senso alla vita questo è il concetto di tutto quanto e io ho un rapporto molto particolare con il microfono un po' di amore e odio perché ho sempre paura che ovviamente sia acceso questo è un microfono meraviglioso che io ritengo sia un pezzo unico se l'ho girato non si sente più niente ecco come faccio a mostrarlo non lo so però di sicuro è un pezzo che vale intorno ai 2500 i 3000 euro ora quello che è il mio biglietto da visita per i prezzi buoni tutto l'anno io lo offro a 350 euro ma ho tempo anche domani per comprarlo? assolutamente no ok no no domani costa il doppio faccio un po' di obiezioni scommetto anche che è l'unico è un pezzo unico è un pezzo l'hanno fatto apposta per me infatti c'è anche la mia firma anche su questo ed è un pezzo unico che ogni giorno che passa poi costa di più è l'investimento e le faccio un po' di obiezioni però devo chiedere a mia moglie guarda questa cosa della moglie succede spesso a proposito quali sono le obiezioni che vengono fatte maggiormente allora una che più mi ricordo è un signore che chiamò disperato dicendo di notte la moglie ha preso un quadro mentre lui dormiva e l'ha sbatacchiato davanti al letto dicendo se compri un altro quadro ti lascio e l'ha svegliato col rumore del quadro che si rompeva davanti al letto dicendo scusami se se compri un altro quadro io me ne vado questa è una delle cose ma non sempre anche io i miei ragazzi sono in giro a consegnare anche adesso in tutta Italia e capita spesso che ci ricevono nei garage perché la moglie di sopra il marito scende in garage e ritira il quadro di nascosto o nei parcheggi dei supermercati wow certo perché nessuno molti dicono io non voglio far sapere al mio vicino di casa che cosa compro non che io arrivo col furgone Orlando Forever ma vedono vedono quadri che entrano questa sta comprando un sacco un sacco di soldi è come si vede una cornice in legno un po' tutta con Ghirigori no sono imballati i quadri però già il fatto che arrivino tanti quadri capito allora c'è molta gente che non vuole far sapere quindi ci riceve in dei posti strani se non stiamo tornando con la guerra quanti quadri sono andati a puttane con la guerra c'è come tanti altri hanno fatto tanti soldi con la guerra tanti hanno preso dei quadri bellissimi l'hanno messi da parte io invece volevo chiederti cosa ne pensavi del mercato dell'arte come il rifugio del capitale ora chiaramente sono di parte e si ritorna a quel discorso che facevamo prima chi compra da me compra non so l'impiegato che vede un quadro che gli piace e lo compra perché gli piace che costi mille euro centomila diecimila non importa secondo quello che può maggior parte ho tanti clienti che comprano e non quando li portano in quadro a casa non lo aprono nemmeno cioè lo mettono via c'è una questione di il famoso investimento nell'arte si fa si può fare sul moderno e contemporaneo è un po' pericoloso io dico a tutti di stare attenti il discorso che facevo prima quindi puntare sulla storia esatto su artisti veri che sono sui libri di storia sull'antico un investimento meraviglioso però poi se non mi sbaglio a livello di investimenti sull'arte è un settore completamente a parte che comunque si apprezza quasi tutti gli anni e che non è che conosce risi cioè che è scollegato da tutti gli altri tipi di investimenti possono essere azioni immobiliare o altre cose quindi anche se c'è un periodo dove le politiche monetarie non sono favorevoli comunque il settore dell'arte prende sempre valore a prescindere da quello che succede proprio nel mondo ho più di un cliente allora considera i miei clienti ho clienti che hanno da 30 anni a 100 va bene molti clienti miei hanno fatto investimenti in borsa delusi dalla borsa perché quando guadagnano qualcosa glieli tassano anche o non hanno guadagnato hanno perso come può succedere molti hanno venduto le azioni hanno comprato quadri perché come diceva Bocanzi lui è vero il fatto che il quadro non smette mai di essere importante questo è quello che ancora non c'è per quanto io sia un estimatore te lo dico scusami nell'arte digitale quindi negli NFT infatti cosa ne pensi degli NFT allora dunque io quello che penso è che sono una persona che piace molto la tecnologia tantissimo però tecnologia e arte sono due cose diverse la tecnologia mi piace molto quindi non credi nell'arte digitale allora no cioè non credo con investimento assolutamente no ho partecipato a delle cose un grosso gallerista di Verona mi ha chiesto di partecipare a un'opera d'arte di un artista video un filmmaker che ha fatto una cosa molto bella e ha venduto questo questo video con un processore che non si può duplicare insomma con mille cose eccetera è stato anche venduto all'estero però ecco sono cose estreme dove io ho bisogno io ma non perché ho 60 anni posso anche i miei amici che hanno 40 30 o 50 vogliono vedere la mano dell'uomo cioè vogliono non tanto la coppolina il fularino del pittore ma proprio che l'artista plasmi la materia la pennellata la pennellata la fatica la tecnologia che io ripeto amo moltissimo applicata all'arte mi spaventa perché purtroppo cosa vuol dire chi non sa dipingere chi non sa fare arte con la tecnologia diventa dicono della musica di chi non sa cantare che usa il come si chiama l'autotune l'autotune o tutti questi aiuti all'essere artista meglio di no però non pensi che gli nft in futuro non dico ora perché ora è tutta una giungla in futuro potrebbero risolvere il problema dell'autenticità e della provenienza di un quadro o comunque di un'opera d'arte perché io penso che anche ora ci sia la possibilità magari di trovare dei falsi o delle cose però lì vai fuori dall'arte lì va nella tecnologia della blockchain che comunque aiuta tantissimo è un po' come se tu mi chiedessi proprio il jpeg è un po' come se tu mi chiedessi se ti fidi di più di un foglio di carta o di qualcosa messo su crowds cioè è la stessa cosa viva il crowds che ci serve ma il foglio di carta insomma per me è sempre importante carta carta sì sì sicuramente bellissimo avevo un'ultima domanda riassumo anche insomma la faccio piuttosto breve prima hai detto una cosa Alessandro che mi ha colpito magari nel senso non te ne sei accorto hai detto che più o meno ora forse ho generalizzato però tu esponi il tuo pezzo più grosso della serata intorno ad un orario specifico questo viene fatto perché alla base c'è uno studio dei dati quindi capite che in quell'orario c'è il picco dell'attenzione massima dei vostri ascoltatori o insomma vi riguarda oppure no o è a caso allora è chiaro che faccio un esempio ieri sera credo che giocasse la nazionale italiana e neanche io lo seguo però questo ha portato un calo dell'audience quando c'è Sanremo ad esempio dove 12 milioni di tuoi spettatori è chiaro che avverti un leggero calo di audience è chiaro che se tu vai più tardi vai e più hai possibilità di avere più gente quindi il mio momento di grande ascolto è intorno a mezzanotte intorno a mezzanotte anche perché finiscono tutti non so i talk show o i film in televisione infatti io i miei record li faccio d'estate perché d'estate non c'è porta a porta non c'è partite non ci sono grandi eventi le reti nazionali fanno repliche di mille cose quindi è chiaro che meno c'è concorrenza insomma avete capito sì sì certo distrazioni per le persone è chiaro che io lavoro di più perché meno cose sono interessanti in televisione e più io lavoro chiaro costa meno lo spazio in televisione di notte no anzi mi stanno corteggiando da anni per avere da mezzanotte a luna perché io sono l'unico che va in onda fino a luna gli altri finiscono tutti a mezzanotte e invece mi piace la mezzanotte a luna non perché sono l'unico che funziona perché vogliono tutti quello per le donnine insomma quelli pagano molto di più di me sì 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 ottimo ottimo ultimi due favori poi ti lasciamo andare non mi farei vendere qualcos'altro no non ti faccio vendere niente il primo sì ovviamente ti richiedo di prendere il pennarello come puoi vedere dietro di te ci sono le autografie di tutti quelli che sono i nostri ospiti però ti chiediamo di lasciare anche il tuo scegli te dove di qua di là dove vuoi ti pensa Alessandro quando tra dieci anni venderai l'intero massimizziamo il valore scegli posso firmare dove vuoi dove vuoi dove vuoi bellissimo grandissimo e poi se puoi semplicemente guardare in camera e invitare gli ospiti a seguire Gurulandia che anche questa poi la mettiamo quale? questa? quella devo invitarli a vedere questa Gurulandia evviva Gurulandia grande ragazzi io ringrazio tantissimo Alessandro Orlando per essere stato con noi intervista assurda bellissima intervista grande carisma bellissimi racconti grazie davvero grazie a voi e soprattutto siete veramente forti mi piacete tantissimo e mi è piaciuta la location bellissima io quando sono arrivato in questa piazzetta meravigliosa bellissima situazione però più storica questo posto Pinocchio nasce nei paraggi grazie dell'invito grazie a tutti voi e noi ovviamente come sempre ci vediamo alla prossima puntata ciao e chi sono questi tre? siamo noi tre siamo noi